le avventure di pinocchio di carlo colloti letto da libri in pillole capitolo 6 pinocchio si addormenta coi piedi sul caldano e la mattina dopo si sveglia coi piedi tutti bruciati per l'appunto era una nottataccia d'inferno tuonava forte forte lampeggiava come se il cielo pigliasse fuoco e un ventaccio freddo e strapazzone fischiando rabbiosamente e sollevando un immenso nuvolo di polvere faceva stridere e cigolare tutti gli alberi della campagna pinocchio aveva una gran paura dei tuoni e dei lampi se non che la fame era più forte della paura motivo per cui accostò l'uscio di casa e presa la carriera in un centinaio di salti arrivò fino al paese con la lingua fuori e col fiato grosso come un can da caccia ma trovò tutto buio e tutto deserto le botteghe erano chiuse le porte di casa chiuse le finestre chiuse e nella strada nemmeno un cane pareva il paese dei morti allora pinocchio preso dalla disperazione e dalla fame si attaccò al campanello di una casa e cominciò a suonare a distesa dicendo dentro di sé qualcuno s'affaccerà di fatti si affacciò un vecchio col berretto da notte in capo il quale gridò tutto stizzito che cosa volete a quest'ora e che mi fareste il piacere di darmi un po di pane aspettami osti che torno subito rispose il vecchio credendo di avere a che fare con qualcuno di quei ragazzacci rompicolli che si divertono di notte a suonare i campanelli delle case per molestar la gente per bene che se la dorme tranquillamente dopo mezzo minuto la finestra si riaprì e la voce del solito vecchino gridò a pinocchio fatti sotto e pare cappello pinocchio che non aveva ancora un cappello si avvicinò e sentì pioversi addosso un enorme catinellata d'acqua che lo annaffiò tutto dalla testa ai piedi come se fosse un vaso di giranio appassito torno a casa bagnato come un pulcino e rifinito dalla stanchezza e dalla fame e perché non aveva più la forza di reggersi ritto si pose a sedere appoggiando i piedi fradici e impillaccherati sopra un caldano pieno di brace accesa e lì si addormentò e nel dormire i piedi che erano di legno gli presero fuoco e ad agio ad agio gli si carbonizzarono e diventarono ceneri e pinocchio seguitava a dormire e a russare come se i suoi piedi fossero quelli di un altro finalmente sul far del giorno si svegliò perché qualcuno aveva bussato alla porta chi è domandò sbadigliando e stropicciandosi gli occhi sono io rispose una voce quella voce era la voce di geppetto